musica musica amici di Classi Garage un cordiale benvenuto da parte di Carlo Braccini siamo all'All Cars di Roma ormai lo sapete appuntamento fisso con l'unico talk show al mondo dedicato al mondo appunto dell'auto classica ed epoca prima di presentarvi i nostri ospiti è doveroso dare uno sguardo alle protagoniste vere di questa puntata le nostre automobili cominciamo dalla new entry di questa puntata una Fiat 128 Rally siamo nel 72 una vettura di cui si sono un po' perse le tracce quindi ci fa molto piacere ospitarla perché non è una vettura di grande valore collezionistico ma è interessante perché racconta un pezzo di storia importante della Fiat e quindi un po' di tutti noi di fronte l'avete già vista nella precedente puntata ma oggi entraremo più nel dettaglio di questa Ferrari 208 Turbo si tratta di un'prima serie dell'83 quella ancora senza intercooler una vettura che sta diventando molto interessante anche sotto il profilo proprio del valore collezionistico alle mie spalle l'avete visto in una precedente puntata ma vogliamo tornare a parlarne in maniera più dettagliata perché è una vettura importantissima non solo della Jaguar ma di tutta la storia dell'automobile moderna insomma la Jaguar MK2 questo è un 3008 del 1968 nella scorsa puntata ricorderete che fu un po' attaccata dal nostro Mimmo Leone che adesso è qui con noi di nuovo insomma ha creato veramente un po' di scompiglio questo suo attacco da ferrarista contro il mondo delle Jaguar d'epoca ma prima di entrare in questa polemica naturalmente simpatica tra appassionati e tra amici i nostri ospiti ospite fisso del Classic Garage qui all'All Cars di Roma l'avvocato, esperto, amico Giuseppe Guancioli un saluto a tutti e proseguendo da sinistra verso di me abbiamo detto Mimmo Leone titolare della Leone Motorsport preparatore, esperto di Ferrari un saluto a tutti appassionato e polemista abbiamo scoperto anche nella scorsa puntata saluto accanto a me Marco Marinacci presidente del Colosseum Club Veicoli Storici di Roma anche lui grande appassionato naturalmente oggi parleremo anche di assicurazioni che è un tema scontante che l'altra volta travolti dalla polemica Jaguar-Ferrari non abbiamo approfondito vengo la mia a destra ci ha raggiunto in questa puntata Sergio Atezzeni benvenuto Sergio Sergio è qui in veste lo avete visto lo avete capito dalle splendide autoradio che abbiamo davanti qui nel nostro studio davanti a me è proprio un esperto appassionato e anche possiamo dire restauratore di autoradio d'epoca un settore davvero interessante nel quale cercheremo oggi di immergerci e poi naturalmente padrone di casa Sandro Cudini saluti come vai oggi Sandro bene? è tutto abbastanza bene l'altra volta ti hanno attaccato la Jaguar che poi è la tua poi tra l'altro e non te la sei neanche presa? no non ci ha dato tempo no ma poi su strada all'incontro non te preoccupare non siamo in strada se Mimmo si presenta su un Ferrari ti fuggire che con la Jaguar tu possa dire la tua perché molti sui rettilini vanno sempre corrono e poi vanno in curva e perdono lì ma come va la Jaguar in curva Mimmo? male se la sei portata va bene male allora c'aveva un po' di sovrasterzo ma insomma con un po' di manico molto manico di entrare forte lui l'altra volta Carlo mi ha massacrato una macchina per la quale ha stato cronato il detto Grey Space and Space grazie a velocità e spazio un Sir inglese aveva cronato questa ma è un Sir inglese va bene diciamo che lui non ha distrattato tanto il modello che tra l'altro mi associo il modello è bello è la bellina è la bellina non vede la soddisfazione nel guidare una Jaguar io ho parlato della meccanica insomma la linea è stupenda è una macchina secondo me insuperata una linea di berlina insuperata voglio dire che forse è la berlina sportiva più famosa del mondo assolutamente come berlina sportiva sia per la purezza delle linee di questa generazione che insomma nasce in realtà alla fine degli anni 50 con la MK2 però poi arriva appunto fino al 68 69 ma hai la stessa idea anche del modello Daimler che hanno fatto identico col motore alleggerito quello andava con meglio il sovrasterzo era stato eliminato quello andava un po' meglio quello è il modello però ricordate Mimmo che ci vorrevano con la MK2 all'epoca vorrevano con tutto credo che abbia vinto 4-5 campionati europei questa macchina benché berlina sì però come diceva Mimmo cambiavano i carburatori e mettevano i nostri ma quello per carità anzi poi venivano tutte trasformate arrivano le sospensioni cioè se uno ci lavora e elabora certi difetti li toglie non è una macchina da corsa è una macchina con cui diciamo che però è protagonista del mercato dell'auto d'epoca perché la MK2 è ovviamente molto ricercata soprattutto nella versione 3.800 che è quella più potente più performante siamo oltre 200 cavalli prestazioni quindi sicuramente importanti questa ha 220 220 cavalli sicuramente importanti Giuseppe parliamo un po' di quotazioni voi a Club ne avete due di queste vetture sono molto ricercate anche perché vengono utilizzate anche per l'utilizzo dei matrimoni eccetera però è una vettura veramente molto ambita guarda è una macchina anche qui come sempre ovviamente il stato di conservazione è un elemento fondamentale ma è una macchina che dai 25 ai 35.000 euro si può ancora trovare un bel questo è targa originale tra l'altro questo è targa originale che ha un valore un valore a sé per gli italiani soprattutto per gli italiani è importante all'estero colpa meno l'auto vetture con targa nera secondo me è molto più bella di un cioè un'auto d'epoca con la ritargata insomma perde un po' quello è il crucio è il crucio sempre degli appassionati avere la macchina e trovi la macchina e purtroppo non le targa originali io le mie auto vetture sono tutte targate insomma vera vabbè tu ce ne metti un'altra finta l'i-type no l'i-type è targata roma comunque si è scritto anche dall'america però è targata c'è scritto roma già importante quello già quello conta giuseppe com'è da guidare mk2 so che tu la frequenti spesso vabbè il fascino appena entri già senti questo profumo poi l'immo potrà dissentire no ma io credo che su questo non dissenta neanche lui perché quando senti il profumo della pelle originale vedi questo bruscotto in radica e metti in moto e insomma lì a quel punto il fascino scatta la guida è piacevole ecco lui mi dirà fino a che cammina perché lui è convinto che mi lasci vuoi per strada però no io non sono possessore di giagua le volte che ho portato la sua non sono mai rimasto per la strada tra l'altro è stata utilizzata anche per qualche matrimonio con un piccolo con un po' di patermadano d'animo sì perché lasciare la sposa per strada è un giorno più bello no ma io l'ho portata raccomandabile ho lasciato lo sposo per strada ho portato la spota l'ho portata lui si è rimasto questa strada con giagua sì no mai mai vedi Mimmo la usa una volta all'anno però bisogna vedere se è vero sono sempre tornato a casa a qualche problema ma sono sempre a casa c'è toni col carattrezzi è rimasto della sua idea è silenzioso la trota però io ritengo che tu un appassionato dal tuo tempo che non posso non apprezzare la mk2 ma ci mancherebbe non ci sono altre parole giagua e ferrari hanno insomma punti di vista punti di partenza differenti no quale più affascinante io l'ho già detto l'altra volta ferrari e ferrari non c'è da discutere ma non c'è neanche discussione no infatti però non esiste solo la ferrari per fortuna anche perché se no non ci sarebbe più termini di confronto quindi insomma devo ricordare il gioco del mondo è protagonista di un'attività sulle auto heritage pazzesca sono club in tutto il mondo fanno attività veramente importanti queste vetture hanno veramente attraversato la storia ma gioco è parte dell'eleganza ferrari parte dalla sportività una è elegante ma sportiva certo elegante ma sportiva l'altra è sportiva ma elegante è la stessa cosa vista da un lato o l'altro dello specchio se mi chiedi quale preferirei la ferrari perché la ferrari è ferrari ma in realtà sono due cose non sono da paragonare sono due cose effettivamente è vero lei ha vinto credo cinque o sei campionati europei della classe la jaguar però chiaramente il concetto di jaguar è diverso la passione per l'auto storica jaguar non c'entra nulla con la passione per l'auto storica ferrari sono due mondi differenti io poi non ero d'accordo con Mimmo sul fatto che un collezionista un appassionato di auto d'epoca non possa provare emozioni tanto possedendo un ferrari classico tanto quanto può provarle possedendo una jaguar sono questioni sono emozioni differenti completamente differenti che poi fanno parte della nostra stessa ma come come il collezionista ad un'opera d'arte che prende un Picasso o un Bonnet è chiaro che sono due quadri totalmente diversi ma siamo nell'ambito dello stesso argomento per me sai considero le macchine d'epoca come opere d'arte quindi le abbino spesso come idea che mi dice ma come mai le macchine guarda è come l'appassionato di quadri e io sono appassionato di macchine è importante avere la chiave di lettura la chiave di lettura avere quello che ti permette di emozionarti sia per le prestazioni sia per le sensazioni tattili tattili olfattive visive l'atmosfera che ti dà un'automobile credo che sia questa la vera chiave e anche ricordi che ti può generare nel caso mio l'oggetto in un'altra occasione nascono quasi sempre da ricordi specifici sicuramente da una passione ho avuto la passione delle macchine da quando avevo tre anni quattro anni ma mi ricordo in macchina con mio padre conoscevo tutte le macchine che vedevo in giro però ripeto oggi le vedo anche come opere d'arte d'altro canto non starebbero in musei al museo MoMA di New York non ci sarebbero linee di peninfarina se non fossero opere d'arte bene tornando ancora l'MG2 vorrendo orientare pensando qualche appassionato che ti segue da casa che magari è una vettura sicuramente di quelle che si prende in considerazione talvolta anche come la prima vettura storica perché le quotazioni sono importanti ma non hanno raggiunto dei livelli improponibili non è forse da consigliare come primo approccio nel mondo dell'appdo d'epoca no come primo approccio sicuramente no secondo me perché è una macchina comunque richiede molta manutenzione quindi ci vuole un po' di esperienza conoscerla quindi chi entra nel mondo d'epoca conviene entrare con una macchina di minor livello nel senso che più più accessibile insomma finanziariamente e poi si può arrivare a questa però è una macchina secondo me importante c'è un'eleganza particolare molto molto bella e che ricambi si trovano? si si no giaco trovi tutto senza problemi quasi tutto trovi tutto non c'è nessun problema per i ricambi come diceva bene Mimmo che purtroppo c'è bisogno di manutenzione ecco però trovare ricambi è già metà dell'opera devo dire che la giaco a livello ricambi anche io le ho riestaurate varie hanno veramente tutto dal punto di vista l'impianto elettrico che è un disastro beh no bisogna avere un po' particolare l'impianto elettrico funziona con logiche diverse ti mandino pure l'impianto elettrico si si non hanno tutto ti arrivi ti arrivi in terra c'è tutto tutto nuovo tutto nuovo si fanno tutto si trova tutto quanto guarda mi chiede insomma anche a livello meccanico c'è tutta la bulloneria in pollici c'è anche attrezzature e allora visto che siamo in tema di impianto elettrico Sergio qui davanti abbiamo hai portato delle autoradio un settore che non va trascurato perché come è piacevole avere una targa originale importante avere una targa originale su una vettura d'epoca tanto più è importante avere una radio che non stona con il contesto nella quale l'andiamo a inserire e non è facile perché mentre l'auto comunque ci sono meccanici che sono specializzati e sanno metterci le mani sull'autoradio d'epoca e infatti sull'autoradio è difficile trovare i ricambi ma anche chi ci mette le mani anche chi perché se vai da un installatore modello a parte che sono sparenti tutti gli installatori non c'è quasi più nessuno che installa l'autoradio io lo faccio ancora a livello amatoriale perché io sono un pensionato diciamo però faccio questo lavoro da quando avevo 13 anni cioè negli anni 50 qui ci sono esposti alcune autoradio che partono dagli anni della guerra vuoi raccontarci posso interrompere partire un attimo infatti siamo molto felici di averti conosciuto oggi perché siamo ci avremo un contatto frequente noi vogliamo che nella macchina d'epoca la radio funzioni infatti io con Sandro ci conosciamo da tantissimi anni ti ho trovato nel finire te no? no a me non mi ho trovato nel finire ce l'ho portato però speriamo di no il primo autoradio che vediamo qui è stato smontato su un Aurora Rois del 1934 la macchina apparteneva all'attrice Gianna Serra io lavoravo in quel periodo da Radio Vittoria l'ho smontato e me lo sono messo da parte ma funziona? adesso non funziona perché l'ho lasciato a Sandro per parecchio tempo perché mi doveva trovare un pezzo di ricambio che non l'ha trovato perché è svogliato però la radio l'ho mantenuto la mantenuto perciò quest'autoradio qui è degli anni 40 45 ma perdono è a valvole? a valvole a vibratori questo perché all'epoca non c'erano ancora le valvole cioè a 12 volte questo funziona con delle valvole che funzionano ancora a 190 volte di alternata allora siccome la macchina era a 12 volte c'era un dispositivo che si chiama survultore che portava la corrente da continua a pulsante e così tramite un trasformatore poteva essere modificata cioè aumentata e la portava a 190 volte ma questo solo in macchine importanti come la Roelts? no no però aveva un costo notevole allora un apparecchio del genere non lo so quello che poteva costare comunque abbastanza notevole e poi dopo c'è stata un'evoluzione sono uscite le prime valvole a 12 volte nelle autoradio sempre che si montavano sul Fiat 1400 ecco proseguiamo sulla bocca nera diciamo sinistra dell'autoradio che è appena descritto quello lì è famoso bocca nera che tutti conoscono chi lo produceva? la Voxon azienda italiana azienda italiana adesso sono sparite tutte le aziende italiane è stata una delle più forti che c'era in Europa Voxon e AutoVox qui in che anni siamo? questo è il 65-70 quindi musica a 7 musica a 7 no cassette grandi cassette stereo 8 quelle che avevano nel crispo esterno diciamo le musica a 7 sono uscite dopo se non sbaglio erano a 4 piste l'estero 8 era continuo girava di continuo forse si però hai ragione mi sa che quelle grosse erano a 4 piste poi davanti abbiamo ancora altre due poi abbiamo quell'altro autoradio davanti quello diciamo più grosso quello pure stava montato su una macchina americana quella che cominciava a essere degli anni 70 e quell'altro l'ultimo questo qui il quarto questo è un Blaupunt non si può fare pubblicità ma si si parliamo di nomi un Blaupunt tedesco un autoradio che funziona queste non erano estraibili ci potevi mettere una slitta estraibile erano tutti fissi poi dopo hanno fatto un dispositivo una slitta che si poteva fare estraibile e poi l'ultimo questo qui questo qua quello che vedo nascosto che ricordiamo tutti il paiperino dell'auto il paiperino dell'auto il famoso paiperino anche questa autobox azienda italiana si italianissima questo è stato un po' l'autoradio diciamo di tutte le Fiat del popolo costava meno degli altri era compatto qui aveva mi sembra soltanto le onde onde medie quindi non parliamo di autoradio FM che sono arrivate negli anni 80 quindi ancora non c'era l'FM l'FM è uscito fuori negli anni 75 diciamo l'ultimo modello del boccanera con l'FM hanno fatto l'ultimo modello del boccanera con l'FM ecco la cosa interessante si montano queste radio anch'io ne ho una e devo dire che però poi si possono applicare diciamo i dispositivi moderni esiste un dispositivo che si collega sull'autoradio che hanno l'uscita pentapolare cioè a 5 contatti con un jack e si collega sui telefonini questi di ultima generazione sui smartphone e riproduce oppure un lettore di MP3 oppure anche se ha un lettore a cassetta ci sono delle cassette che vendono che tu metti la cassetta ed esce un jack però da un sacco di fruscio quello perché riproduce attraverso la testina magnetica invece con quel collegamento con quel dispositivo che c'è si collega direttamente sulla bassa frequenza cioè sul potenziometro il segnale è pulito ma scusa in questo caso correggetemi se sbaglio si utilizza l'autoradio solo come amplificazione si esclude completamente la radio si utilizza la MP3 no quell'autoradio lì può benissimo funzionare come autoradio e come riproduttore è solo la M però solo certo è solo onde media è disturbata non c'è il segnale come la modulazione di frequenza si può utilizzare un lettore qualunque MP3 o abbiamo detto un iPhone un iPad quindi con questo dispositivo ma devi aggiungere un meccanico cioè il jack se vi aggiungi un dispositivo c'è un dispositivo che c'è un jack che va sul telefonino ma si trova in commercio ci sono degli artigiani che lo fanno ecco e tra cui sono prenotato se ti porti una qualunque radio beh no qualunque radio no deve averci un'uscita pentapolare dietro e se non c'è bisogna vedere se si può costruire facendo uscire il cavetto da dentro e con questo dispositivo io posso sentire la musica che porto nel computer nel telefono nel lettore io con il telefono mio funziona così c'è un'altra soluzione però che ho visto in alcune macchine importanti cioè un autoradio che è soltanto con caratteristiche estetiche quelle dell'epoca però poi dietro c'è una radio moderna ci sono anche queste soluzioni insomma si esistono pure quelle soluzioni però una cosa bella è che l'autoradio è d'epoca non è una cosa finta che montano autoradio d'epoca che però è silente e poi installano in pianto moderno nasconde dentro anche questo tipo di installazione volendo si può fare però non non c'è più facile non è caro io non lo farei ma mi piace molto lì quella possibilità che non conoscevo non so cosa sia questa uscita pentapolare è una uscita a 5 contatti se vuole lo posso far vedere beh se mi prenoto vengo si si no poi lo faccio vedere il dispositivo ce l'ho qui se vuole lo faccio vedere lo posso prendere dopo la trasmissione sono prenotato allora in questa maniera si può godere della musica all'interno dell'autodepoca senza snaturarla con un autoradio che assolutamente non c'entra niente lasciando il prodotto originale il prodotto originale Mimmo tu solo autoradio d'epoca o sei uno che induce invece alla tentazione dell'autoradio moderna hai dimenticato cosa hai detto l'altra volta io se non voglio autoradio mi basta la musica del motore quindi per me la Ferrari d'epoca in particolare ma anche su quelle moderne la radio non si accende non c'è l'attacco sul motore pentapolare c'è il motore già che fa musica però volendo volendo sì però sono per le cose originali solo originali quindi se l'autoradio è d'epoca rimane d'epoca senza attacchi con telefonini eh ma se non c'entri non senti niente eh vabbè sento quello che mi capita metto la cassetta si vuole la cassetta ci sono anche quelli che non c'hanno la cassetta come c'è la Sandro su una macchina scuola c'è un Voxon c'è un boccaniera con l'FM giusto? c'è un boccaniera l'ultimo quando ho fatto che appena era stato immesso l'FM Marco la tua posizione qua è autoradio originale si si può vedere un'autoradio con l'autoradio tutta multicolore io ho una Voxon Indianapolis del 67 credo che è un modello di punta dell'epoca che ha onde lunghe medie e modazione di frequenza e la ricerca e la ricerca elettronica tu premi il pulsante c'è un motorino che fa muovere la se lo va a cercare e si va a cercare il tutto non è credo che non sia funzionante e non è montata non è montata perché nella la dovrei mettere nella Fulvia che ha un bellissimo una bellissima scritta Fulvia qui se tu monti la radio sparisce quella e quindi non si può fare e allora non so che fare o la rascondi sotto ma poi è brutto però è vero epoca va con epoca da oggi per farla funzionare sappiamo come fare perché non è facile trovare lo specialista che è in grado di lavorare su queste radio d'epoca effetto non lo fa più nessuno perché oggi l'installazione è quasi sparita ormai le vetture montano quasi tutte in primo equipaggio lo fa qualcuno come me per esempio che lo faccia a livello amatoriale agli amici così però non è più un lavoro come era una volta comunque sicuramente è vietato di imbastardire un'auto d'epoca con un'auto radio moderna perché è proprio una cosa inutile ha ragione lui quando dice in una Ferrari non si mette ma in nessuna macchina si mette una radio che stona oppure prende la macchina normale non ha senso eppure ogni tanto si vede un'automobile d'epoca con questa radio moderna ti metti il tuo iphone hai quello che ti pare con le cuffiette è quasi peggio della targa moderna sulla macchina è quasi peggio è obbligato a farlo devo dire non è neanche facile trovare delle persone competenti che con passione e con tempo perché immagino quanto tempo ci vuole per ripristinare una radio che spesso veniva poi buttata via non sempre ci si riesce c'è qualche specialista che ha fatto diventare un lavoro importante soprattutto a nord Italia che ha dei cataloghi anche online però poi se non hai l'installatore io la radio la posso anche trovare con garanzie perché le vendono con garanzie perfettamente funzionanti e anche vendono questo dispositivo da poter attaccare ma se poi non hai un installatore c'è qualche problema non è facile non è che tu basta mantenere i rapporti con gli amici giusti hai visto nel tempo ma così è un po' una cosa tipo carbonara no abbiamo detto carbonara dobbiamo cercare di raccontare anche a chi ci segue io Carlo spero spero che che Sergio mi monta sul giacuarele il mangiadisco io non volevo nominarlo sto mangiadisco io ce lo metterò per far vedere Sandro ha scovato nel solito fienile ha scovato non una radio ma un mangiadisti dove si introduceva proprio il 45 immaginate con le buche tutto quanto in scatola con la garanzia tutto va mai montato comprato ma mai montato quindi appena Sergio mi farà questo regalo ecco ovviamente qui parliamo in gran parte di apparecchimono quindi la resa diciamo musicale non è paragonabile non è sterile ma non avrebbe neanche senso bucare pannelli per mettere altoparlanti carlo nel 65 70 in quell'arco di tempo c'era un mangiadischi Philips portatele mi pare che fosse Philips io su un 8,50 l'avevo montato con dei ganci da solo me l'ho fatto tutto un impianto avevo fatto l'estraibile e funzionava ci avevo messo della gomma piuma per cui effettivamente riuscivo a non far saltare la testa perché non avevi le buche saltava il disco e allora un mondo affascinante anche quello dell'autoradio d'epoca poi magari un giorno seguiremo Sergio in uno dei suoi lavori per farvi sentire proprio anche la musica come risorge all'interno di una vettura d'epoca ovviamente non pretendiamo le prestazioni a cui ci hanno abituato gli impianti moderni ma veramente va bene così prima parlavamo di primo approccio alle auto d'epoca abbiamo detto che l'MK2 è un po' impegnativo come primo approccio e Sando suggeriva orientati verso qualcosa di interessante magari di raro ma più facilmente gestibile io ho qua davanti questa 128 Rally secondo me è l'esempio calzante una vettura che non ha un costo ancora esorbitante una vettura comunque tra virgolette popolare però è interessante perché ne sono state costruite poche ecco questa potrebbe essere Marco il famoso primo approccio decido di diventare anch'io collezionista prendo una macchina che è interessante perché ce ne sono poche e comincio a farmi un po' di esperienza questo è un inizioniente male se riesci a trovarla messa bene come questa inizioniente male comunque è una macchina che ha un suo degno di rispetto nel senso specialmente adesso io ricordo quando era di moda questa macchina quando era attuale la trovavo intollerabile adesso devo dire che la guardo con questo succede a tanti automobili mentre alcune cose nella vita quando invecchiano peggiorano le automobili come il buon vino migliorano perché giustamente la linea non ci sembrava particolarmente riuscita quando uscì lo era meno della quattroporte sicuramente adesso la consideriamo interessante perché è figlia di un'epoca particolare e poi i modelli sportivi anche perché era molto divertente da guidarsi è molto molto divertente quello però ce lo dobbiamo scordare oggi se no facciamo danni oggi sono fatte per andare piano queste macchine in teoria però delle sensazioni delle danni la verità diciamo su un misto è una macchina divertente pensavano anche molto poco anche perché il divertimento alla guida scusami non sono d'accordo con te il divertimento alla guida prescinde dalle prestazioni pure io posso provare divertimento tantissimo con una macchina che trasmette sensazioni con un cambio particolare un motore brillante mi è successo recentemente con una Spitfire che è una macchina che non ha prestazioni minimamente peragolabili a quelle di una sportiva moderna ma divertentissima perché è un giocattolo in qualche maniera la questa 628 Rally potrebbe può essere divertente perché è una vettura che ha più cavalli che è più leggera e infatti per questo ho detto sul misto un misto stretto è una macchina ancora tutta ma guarda che cammina vacci che ne so a Guadagnolo a Rocca di Cari vedi come ti diverti come cammina con la trazione anteriore poi mio fratello la comprò nel 72 proprio gialla così poi ti racconti la storia di questa qua perché questa è una storia familiare particolare questo è un regalo e comprò questa tua vettura quando l'altro mio fratello c'era una Giulia Super 1300 che all'epoca era quella che insomma faceva stragi anche perché poi uscì il 1600 e lui con il 128 Rally dove andava? no eppure prese questa macchina la fece preparare da un meccanico un preparatore la prepari e aveva i suoi successi nelle competizioni con gli amici perché era era un motore comunque anche originale ha ottime prestazioni sì 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 era divertente ti racconti brevemente la storia di questo esemplare questo è un regalo che hai fatto questo allora Piofello la comprano nel 72 gialla poi per i suoi 60 anni con mia cognata abbiamo detto che gli facciamo allora ho detto guarda sarebbe bello trovare un 128 Rally il problema è trovarlo è uguale poi uguale a quello che c'aveva Marcello all'epoca sì uguale a quello che c'aveva lui all'epoca e a forza di tentativi ne ho trovati vari rossi, bianchi ma giallo non lo trovavo poi la fortuna ha voluto che ho trovato questo annuncio ho chiamato un signore di Avellino l'ho chiamato ho detto ha prima detto che colore è dice giallo dove sta? sono partito ovviamente un prezzone ah no un prezzo un prezzo un prezzo di euro trattabili allora ha pagato 1000 euro poco più poco meno vergognosa una vettura imperfetta no però quando la si poteva vedere era talmente perfetta poi mi ha detto che appunto era di un direttore e qui scatta l'invidia perché non si può pagare 1000 euro era di un direttore della Fiat di Bologna vatti è targata in Bologna 50.000 km originali introvabile questa macchina costava 1.220.000 euro dobbiamo dare la linea alla regia per un po' di per fortuna un po' di sana e buona pubblicità poi torniamo in studio ah dobbiamo dire una cosa piccolissimo mogli sorelle fidanzate parenti amici avete visto regali ma regalate una bella automobile d'epoca che insomma in questo caso avete visto fate contenti è stato contento Marcello quando ha avviso poi si spende poco 100 euro lo spendete in più potrebbe essere un regalo regalate una vettura che ha rappresentato nella storia personale del vostro uomo del vostro compagno del fratello di chi vorrei del padre regalate un'autodepoca questo vale naturalmente anche per i miei familiari attra poco